Ogni progetto inizia da un'idea, ma solo con il giusto partner diventa realtà. Da oltre 50 anni, Breco SRL è al tuo fianco per realizzare progetti di ogni dimensione, dalla casa al cantiere. L'assistenza tecnica è il nostro cuore pulsante, grazie all'esperienza e passione di oltre 40 professionisti pronti a fornirti soluzioni su misura, di qualità e durature. Da più di 50 anni siamo specialisti della verniciatura, grazie all'avanzato servizio di colorimetria e un team dedicato. E se sogni un colore nuovo, lo creiamo insieme da zero. Per la tua impresa forniamo consulenza commerciale e tecnica per la scelta di materiali e macchinari. Insieme riduciamo gli sprechi e ottimizziamo i processi a seconda delle tue esigenze e con un'assistenza continua. La divisione legno garantisce prodotti scelti dai migliori partner, con vernici e trattamenti che valorizzano e proteggono le superfici nel massimo rispetto dell'ambiente. Il nostro supporto all'industria è sinonimo di eccellenza. Offriamo vernici specializzate per ogni tipo di materiale, con un servizio di manutenzione e supporto per risultati che durano nel tempo. Con un'ampia gamma di pitture da interno ed esterno, strumenti e un servizio tintometrico all'avanguardia, la divisione edilizia offre soluzioni complete con consegna direttamente in cantiere. In Breco troverai assistenza e professionalità anche per pavimenti e rivestimenti. Potrai toccare con mano i materiali, scegliere il tuo stile e affidarti alla nostra esperienza per una posa perfetta. Nel tuo progetto non sarai mai solo. Questa è la nostra forza. Con un servizio logistico capillare e sedi nel territorio, assicuriamo che ogni ordine arrivi puntuale dove e quando serve. E grazie alla rete di assistenza, siamo sempre pronti a rispondere, anche a progetto concluso. Dalla consulenza alla soluzione. Da 50 anni l'innovazione, la ricerca e la passione del team Breco. Da vita ai tuoi progetti. Da 50 anni l'innovazione, la ricerca e la passione del team Breco.